Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Minetto e il libro di Marco Pellegrino. La simultaneità del tutto non si trova in una dimensione diversa da quella limitata e temporale. La dimensione in cui tutti i tempi appaiono è unica e non dimora oltre il tempo, né si può dire che sia un uscita al tempo, bensì si deve dire che essa, essendo la totalità assoluta dei tempi, passati e futuri che siano, è atemporale, nel senso che non è ulteriormente temporalizzabile, non è cioè un tempo ulteriore a quelli in cui essa appare via via. Che il tutto appaia a se stesso in modo parzialmente diacronico-sincronico non significa che esso non appaia tutto insieme, bensì significa che il suo apparire tutto insieme, in quell'unico modo, non è un modo assolutamente sincronico di apparire, proprio perché l'asincronia o simultaneità assoluta è l'identità-relazione di ogni proprio modo di apparire. La realtà autentica è se stessa soltanto nel modo in cui si illude parzialmente di essere altro da sé. Questo proprio perché il modo è unico ed essendo finito diacronico illude parzialmente la coscienza facendole credere di non essere la simultaneità infinita. Nel ritorno l'illusione riduce la propria intensità luminosa, ovvero sia ci si illude sempre di meno fino al residuale illudersi ancora presente, quando sopraggiunge l'ultimo istante che, con una permanenza all'infinito, è il cerchio finito di coscienza più esteso in cui essa specchia se stessa. L'illudersi già da sempre oltrepassato, cioè avvolto nella verità che ne vede la finita erranza, ma nel modo appunto in cui l'illudersi via via riducendosi fino al minimum finale. Già che l'illudersi non potrà mai essere lasciato indietro nel passato, perché esso è appunto il senso stesso della temporalità che si ripeta, non è illusoria ma illude finitamente il soggetto coscienziale dell'infinito. Anche l'ultimo istante è un modo finito temporale, quindi l'illudersi vi permane all'infinito, pur nella coscienza che ormai brilla in se stessa, come l'estensione più ampia in cui sperisce la totalità di se stessa. Usando una metafora, noi vediamo sempre e cioè ovunque tutto il film dell'essere, ma nel modo in cui i fotogrammi del film si avvicendano uno rispetto all'altro. Ora l'inganno è che tale modo processuale di apparire impedisca o negli la simultaneità di tutti i fotogrammi. Nel secondo tempo del film, cioè nel ritorno degli Eterni della prima volta, cioè del primo tempo, lo sguardo di luce si accorge sempre di più che la simultaneità in cui esso consiste appare sempre sin dall'inizio del film e che il modo finito sequenziale in cui essa, simultaneità, esso, sguardo di luce, appare non può essere l'esclusione di tale apparire simultaneo, bensì è tale modo finito sequenziale da essere incluso in se stesso, in quanto non ulteriore modalità in cui consiste l'esposizione sincronica in tutti gli istanti o luoghi del tempo, ossia dell'illuversi che ci sia soltanto il tempo e non la simultaneità. Quel che viviamo ogni giorno è in verità lo specchio di colori, modi, che hanno già da sempre brillato, cioè che brillano sempre nell'adesso infinito che tutti siamo, uno rispetto all'altro, anche l'ultimo colore per durante e senza fine, ed è anche quelli precedenti che lo attendono. L'attesa dell'atteso è eterna, così come è eterno l'atteso, ma nei modi opportuni, appunto. Il vivere in concreto l'ultimo istante del ritorno è una vita che è già viva, vissuta sin dall'eternità e per sempre, e nel modo in cui perdura, non scomparendo mai. Quindi lo stiamo, la stiamo già vivendo da sempre e non ce ne accorgiamo ancora. E se non ce ne accorgiamo ancora, significa brillare nell'altrettanto eterna attesa di arrivare all'ultima vetta o di vivere, appunto, l'ultima vita dell'infinito. Ma non si procede verso ciò che non sarebbe ancora accaduto, si va verso ciò che si staglia sempre nella sfera di luce, così come tutto accade sempre, giacché può essere solo un'illusione quella credenza che crede di negarlo, o che crede, cioè, che il tutto non sia già accaduto in tutte le sue forme infinite, compresa l'ultima che non si disperde mai più nell'ombra. Grazie. 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 Grazie.